Qui nella nostra classe abbiamo un gruppo di ragazzi che tratta gli insegnanti come fossero pupazzi. Ragazze state buone, altrimenti la pagate, perché a noi piace far così, perciò non vi picciate. Prove dirlo e poi ridirlo, ma noi continuiamo, sì continuiamo a fare in classe quello che... Ogni giorno è sempre peggio con quei ragazzacci, sono rossi e impertinenti proprio dei maschiacci. Ma cosa possiamo fare se non cambiamo... Quando l'amicizia ti attraversa il cuore, lascia un'emozione che non se ne va. Non so dirti come, ma succede solo, quando due persone fanno insieme un volo. E ci porta in alto, oltre l'altra gente, come fare un salto nell'immensità. E non c'è distanza, non c'è abbastanza, se tu sei già dentro di me, per sempre. In qualunque costo sarai, in qualunque costo sarò, tra le cose che vivi, io per sempre vivrò. In qualunque costo sarai, ci ritroveremo vicino, stretti l'uno nell'altro, oltre il destino. E comunque vada, noi non ci perderemo. In qualunque costo sarai, non esisteranno confini, solamente due amici più vicini. Credi in me, non avere dubbi mai, tutte le cose che vivi. E se sono vere come noi, lo so, tu lo sai, che non finiranno mai.